La città del cambiamento climatico, azioni di adattamento possibili. Questo è il titolo e il focus dell'incontro pubblico svoltosi a Bari nella sede dell'Associazione La Giusta Causa per analizzare, discutere e aprire un dibattito collettivo sulla questione ambientale al fine di valutare e proporre nuove strategie di adattamento nonché di prevenzione di quelle che sono le già evidenti conseguenze del cambiamento climatico. Un incontro promosso dall'Avvocato Michele Laforgia a cui hanno preso parte i referenti delle organizzazioni animatrici della Convenzione per Bari 2024. Al centro del dibattito la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile sulla quale si sono confrontati anche l'assessore regionale all'ambiente Anna Grazia Maraschio e gli esponenti del movimento Fridays for Future. Un incontro che rientra nell'ambito dell'attività a sostegno della candidatura dell'Avvocato Michele Laforgia alle prossime amministrative di Bari e per cui lui stesso ricorda il ruolo strumentale delle corse politiche rispetto al vero obiettivo di rispondere alle piccole e grandi questioni su cui la politica è chiamata a trovare soluzioni. Noi non dovremmo mai dimenticare, e questa è un'occasione giusta, che le candidature, le campagne elettorali sono sempre strumento. Poi l'obiettivo non è mai elettorale, l'obiettivo è quello di governare le città e magari anche di governare il cambiamento. E' una cosa che ormai è necessario fare per alcune cose, adesso al di là delle battute. Una di queste cose è proprio il cambiamento climatico.